Andiamo a prendere lui. No, lui è di spiegare. Ah, lo sappiamo, sì. Non capite che stia male. Era per fare un bagattito. Sì, sì. Ah, sono andato lì. Lui si è passato a me. Si, si è andato. Ha fatto due gol. E hanno effettuato due. Pratico, perché era una trattura di turnare, dai.